Focus Territorio e Sviluppo è il programma di Trentino TV che da 5 anni vi accompagna alla scoperta del mondo del fare imprese in Trentino, tra innovazione, sostenibilità e marketing territoriale. Quest'anno vi accompagneremo alla scoperta delle start-up in Trentino, ovvero le aziende ad alto contenuto innovativo con in media meno di due anni di vita. L'appuntamento è per tutti i lunedì sera alle 20.30 su Trentino TV con Focus Territorio e Sviluppo. Grazie.